guardate giro giro tondo mi gira la testa tolte il pannolino non ha preso vita mamma mia che è successo si è trasformata all'improvviso sono svenuto alzati personaggio ma che so quelli the baby yellow il bambino demoniaco è tornato no salve a tutti ragazzi e benvenuti da look in questo nuovo video torniamo dal caro bambino cattivissimo perché si è aggiornato e hanno cambiato tantissimo il gioco quindi andiamo subito a provarlo dalla notte 1 e siamo qui ciao piccolini vedo che hai ristrutturato casa hai fatto davvero un ottimo lavoro e bravo il piccolino allora che cosa vuoi da mangiare ovviamente il latte te lo vado subito a prendere vediamo se c'è qualcosa nel frigorifero ovviamente il biberon e quindi lo diamo al nostro caro birbantello che adesso ci lascia un ricordino no ma sempre sotto te lo fai eh caro bambino con il pigiama giallo e con le mutandine allora ti lascio qui nel bagno e fai il buono ti prendo anche le mutandine le mutande più potenti di sempre no dove è finito ah eccolo lì quindi si teletrasporta semplice i soliti superpoteri da sei anni come Goku e adesso a nanna eh ma che sono qua delle giampe blu ma questa è una nuova stanza segreta hanno aggiunto anche la soffitta oh scusa scusa piccolino c'è pure una bella lavatrice non è che ti devo mettere qua dentro eh piccolino ti metto nella lavatrice guardate giro giro tondo mi gira la testa mamma mia come sta girando povero bambino almeno l'abbiamo lavato per bene adesso guardate pure come gli girano gli occhi mi sa che abbiamo rotto il nostro caro piccolo birbantello così ti impari vediamo se troviamo una chiave sì ho trovato il libro che dentro c'è la chiave quindi possiamo salire qui sopra togli il lucchetto prendiamo le scale saliamo su su in una nuova zona segreta che è stata aggiunta con il nuovo aggiornamento ci sono pure dei foglietti tantissimi bellissimi quadri wow che bella faccia questo qui sarebbe semplicemente il bambino quando diventa un demone si trasforma qua invece si vede un caro amichetto travestito da carnevale e qui tante cose brutte con questi disegni e qua c'è un libro che posso aprire no no il libro mi sta attirando sono entrato dentro il libro bello sono entrato in un'altra dimensione belle queste luci le luci le blu e chi c'è lì allora una piena il caro lupo mannaro chi sei tu identificati ah ma è un gattino che è sparito il gatto nero arriverà quindi sta per arrivare il gatto nero qui c'è il terremoto aiuto ah sono tornati indietro arriva nel 2022 quindi sarà un nuovo aggiornamento prossimamente arriverà il gatto nero il caro miau miau che verrà a romperci le scatole è bello questo gioco che si aggiorna sempre mamma mia quanto so belli allora piccolino ti ho lasciato tutto solo mi dispiace tanto hai fatto un bellissimo giro nella giostra della lavatrice ti sei divertito ti gira ancora la testa allora è arrivato il momento di andare a dormire con la scusa e quindi buonanotte ma che hai fatto qui hai cambiato tutto la tua stanza hai messo pure una bella poltrona e devo raccontargli questa storia il principe e il gatto non è che il gatto che abbiamo visto prima il gatto nero quindi adesso devo leggere la storiella e se al di là della riva intera e lontana con le stelle scure sopra la testa il principe dormiva profondamente finché un gatto è saltato sul suo letto ho trovato un giardino segreto disse il gatto con molto piacere eccitati corsero fuori esploratori nella notte seconda pagina attraversarono il cancello d'oro del giardino guarda che bei alberi camminarono lungo il bel sentiero giardino guarda i fiori colorati passarono davanti alla favolosa fontana che scorre guarda l'acqua danciante guarda guarda e guarda ok guardiamo ma al principe non piaceva il giardino e ha iniziato a buttare giù gli alberi scavò fiori afferro le siepi e strappò tutte le foglie ha rovinato tutto per divertimento il gatto osservava con paura che errore ho fatto grido il gatto non avrei mai dovuto portarlo qui comunque la faccia del protagonista del principe che si trova in questa fiabba mi ricorda una persona cioè lui quindi mi sa che il piccolo principe era lui quindi queste fiabbe potrebbero essere veri adesso ci sono poi le scritte della getta che sta dormendo bellissima sta animazione allora buonanotte qua c'è una pecorina con la coroncina bello vabbè io vado a guardarmi la tv una bella partita di calcio come sempre e buonanotte sì tanto io mi addormento manco me la guardo la tv può non si vede niente là tutto illuminato mi sa che però non posso dormire e no perché il bambino mi rovina tutto che sta piangendo lo devo andare a controllare bimbo demoniaco che tra un po' succederà qualcosa di brutto ha aperto pure la porta dove è finito ehi piccolino questo qui si teletrasporta eccolo qui vero sì me lo ricordavo sta parte proprio qua sotto dovevi venire questa parte è rimasta uguale comunque anche se il gioco è cambiato tantissimo allora piccolino non mi guardare con questi occhi inquietanti per favore fate una bella dormita ah ti devo mettere il pelus pure il caro gattino ma manco l'avevo visto questi pelus quanto sono carini pure il coniglietto la piccolina ma tutti con queste facce triste poi c'è pure un bel fiorellino allora bambino ti ho dato quello che volevi fammi guardare la tv per favore che devo guardare la partita di calcio e dai devo guardare l'italia contro la germania via via anche se non guarderò un bel niente perché io mi addormento sempre quando guardo la tv e dai però e buonanotte notte 1 è finita eccolo qui si è caricato dopo tre ore ci mette tempo eccoci arrivati devo controllare al frigo devo guardare qui a piccolino ciao che ti guardi la tv buono lo andiamo a prendere una bella bottiglia di latte biberon ti posso qui non ci ti metto nel forno quasi quasi se ci divertiamo ti metto qua dentro e ciao ciao guardate come si è buggato esploso mamma mia esploso tutto non me lo sarei mai aspettato una cosa del genere che è successo mi hanno chiuso qua dentro con il bimbo beh almeno anche tu ci sei apri qua il frigo piccolino e dove me l'hai messo adesso il biberon è sparito biberon dove sei mi spostano gli oggetti eccolo qua ma non era nel frigo il biberon vola e il bimbo è sparito ma questo qui si teletrasporta ve l'avevo detto comunque qua guardate che cosa c'è nei disegni il gatto nero quello che abbiamo visto prima molto simbolico allora piccolino te la fai addosso di nuovo e mamma mia però dovresti imparare buone maniere allora aspettami qua che vado a prendere il pannolino ma questo pannolino agli occhi no adesso pannolino dove vai scappa via io mi ricordo che nelle vecchie versioni volava invece adesso ha preso vita ehi ti ho visto viene qua il pannolino vivente abbiamo pure con gli occhi viene qua a me che suoni strani le luci blu fa le luci blu mi ricordano poi alla stanza dove c'era il gatto nero prima allora è andato qui dentro viene qua piccolino caro pannolino è andato a sbattere così con la scuola lo posso prendere che è questo solo per emergenza rompere il vetro che c'è l'ultracciuccio buono tra qua c'è pure un gatto nero che bisogna raccogliere per collezione ci sblocchiamo qualcosina quindi io a questo bimbo gli do i pannolini che hanno gli occhi e volano buono allora prenditelo ho capito adesso come fa a teletrasportarsi lui perché i pannolini che hanno vita ecco appunto si è teletrasportato di nuovo grazie al pannolino ecco come fa ecchiero birbantello ve lo potevi dire adesso a nanna penso che fai storia ti devo raccontare un'altra favola vero mi sa proprio di sì stavolta che cosa abbiamo il principe e il coniglio mi sa che la vedo brutta per questo povero coniglio con questa faccia pure guardatelo veramente triste prima pagina quando il coniglio è venuto a trovarmi il principe ha detto è ora di giocare ma i suoi grandi occhi rossi l'hanno spaventato e lei non voleva restare velocemente verso l'uccita il minuscono coniglio salto il principe corse proprio dietro di lui e a un lato devi essere fermato oh che è successo bimbo mi lanci pure adesso le favole della buonanotte ah vuole il coniglietto ma veramente bello sto coniglietto adesso data una calmata non mi lanciare le favole delle buonanotte che sono veramente bellissime pagina 2 nei corridoi oscuri la inseguì salta 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 un incessante volo inutile salta 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 tondo all'interno del palaccio dentro e fuori lo spazio e la vista salta 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 terza pagina il principe non poteva prenderlo il suo cuore era pieno di ira il coniglio è ci volato fuori dalla porta e svanì lungo il sentiero il principe gridò ho bisogno di nuovi amici di più adesso altro te ne porto un altro non preoccuparti ora rispose sua madre amorevole premurosa quindi la mamma del nostro caro birbantello che dorme adesso ha creato lei queste fiabbe che raccontano semplicemente la storiella del nostro caro il bambino in giallo lui ha fatto del male a questi poveri animaletti e io me ne vado via comunque quel coniglietto lo vediamo anche qui dipinto sulla porta dove poi l'obiettivo che noi dobbiamo seguire tutti i suoi simboli e scapperemo via con il coniglio che riuscita a scappare poi da questo cattivone e mi guardo la tv chi ha suonato chi è che è sta roba è male improvviso si è spawnato il coniglio e che pure gli animali hanno i superpoteri adesso i pelus che mi hanno portato qui torsti 4000 interessante vabbè lasciamolo lì sul tavolo la porta la lascia aperta così entrano i ladri con la scusa con il dubbio tanto non è casa mia questo non è il mio appartamento dato che la madre qui è una strega e il bambino è un demone terza notte vediamo come va a finire questa storiella che non mi convince per niente allora devo guardare la tv però il bambino si mette a piangere no bimbo che succede sempre che piangi questo qui si sta preparando a farci una bella sorpresa piccolino riposati e adesso chiudi la porta e me ne vado via ciao ciao devo andare a mangiare poi mi devo fare un toast che bello con quell'oggetto che mi hanno portato vero sì ma facciamo il toast nel frigorifero c'è qualcosa a voglia un po' di pomodoro buono mettiamo qua tutto e allora è pronto buon appetito il toast più brutto che abbia mai creato perché lo so tutto nutrimino io mi volevo nutrire adesso è arrivato il demone il biberon devo prendere mi vogliono mangiare questi qua quasi aperto tutto il frigorifero come al solito per prendere questo bellissimo biberone adesso la porta sicure si lo sapevo e quindi stavolta il frigorifero del bambino è diventato un labirinto non me lo ricordavo così grande cosa assurda vorrei avere io un frigo del genere così ci metto tanta roba di cibo senza che poi non ci entra sono uccito fuori direttamente bimbo non fare questa faccia inquietante mamma mia quanto sei brutto quando fai così e te la fai addosso nel frattempo lasciamo la porta aperta così arrivano i ladri cambiamo il pannolino come sempre e te la fai sempre addosso mentre ci sono i demoni che ti vogliono prendere stavolta il pannolino non ha preso vita mamma mia che è successo si è trasformata all'improvviso sono svenuto alzati personaggio ma che so quelli tutti i giocattoli hanno preso vita che bella faccia che hai il finimonde iniziato giocattoli che prendono vita no mi ha chiuso tutto ho capito devo prendere l'oggetto che sta nella stanza dei genitori il ciuzzo e non farmi pulire gli jumpscare come fnaf prendiamo qua distruggi dobbiamo darlo al bimbo monellone vieni qua bimbo troppo viciato dove sei non mi distruggere l'appartamento ah così ti impari adesso si è calmato si sta dormendo e buonanotte e sonidoro il ciuccio del potere qualunque genitore lo vorrebbe per calmare il suo proprio figlio mi servirebbe pure a me un giorno no no è un filmato c'è si vede il bimbo con i giocattoli e ha preso una favola di nuovo con gli occhi tutti belli brutti ok possiamo continuare dobbiamo seguirlo nella sua stanza ciao piccolino non va a finire come l'altra volta vero speriamo di no ok ti devo mettere a nanna ti devo leggere una fiabba come sempre prima ti devo dare uno di questi la pecorella vuoi che ha pure gli occhi guardate tutti i giocattoli hanno gli occhi come lui non mi convince tanto questa storiella oi piccolino la vuoi qua la pecorella e prenditela così te leggo la fiabba il principe la pecora vediamo che cosa dice la pecora sempre triste tutti questi giocattoli affaccinatristi hanno poverini prima pagina faceva freddo in tutto il palazzo la luna splendeva fuori luminosa il vento soffiava e soffiava oh no le tende si spalancarono il piccolo principe era nel suo letto e non riusciva a dormire così ha chiamato sua madre per favore voglio trovare la mia pecora ho sete disse il principe quindi la pecora andò a prendere da bere sono sporco disse il principe così la pecora ha cambiato i suoi vestiti sono stanco disse il principe lascia che ti conti uno due tre stella e no mamma mia come si è trasformato il bimbo guardatelo purtroppo sta usando questa povera pecora terza pagina solo un'altra cosa disse il principe prima di addormentarmi apri i suoi grandi occhi rossi e si voltò verso la pecora vieni con me nei miei sogni rimani per sempre nella mia testa obbedientemente la pecora si fece avanti e la mente consumata dal terrore quindi il bimbo si è mangiato la pecora no guardate con quel disegno veramente inquietante e mi sa che alla fine che faccio io adesso astur astur si chiama il bimbo quindi mentre i giocattoli hanno preso vita e stanno volando mentre lui si trova in un grande trono perché era il principe quindi questo bimbo demoniaco di nome astur era un principe di un altro mondo e adesso ci porterà via giusto nel mondo degli incubi no è finito come l'altra volta anche se in modo diverso buonanotte quindi veramente bellissimo è diventato questo gioco rispetto alle vecchie versioni più inquietante è una trama convincente nel 2022 arriveranno altre aree puzzle e tanti altri segreti tra cui il nostro caro gatto nero che sarà il prossimo personaggio che arriverà nel gioco vabbè ragazzi direi di terminare qui questo video spero che vi sia piaciuto vi ringrazio per la visione adesso vi saluti un grande saluto a daniele con con oltra bensi lunetta bianchi gamer kevin favotto 2011 carlo tube federico morone domenico sacco e jacine già tutti amici se volete essere salutati al prossimo video dovete commentare scrivendo la parte video che più vi è piaciuto e chiedere di essere salutati ciao ciao